Mr. Francesco Cattani, ex allenatore di Giacomo nel Sassuolo, nell'Under 15 del Sassuolo. Ciao Mr., ben trovato. Buongiorno a voi. Mr., mi racconti il tuo Giacomo, quello dei primi inizi al Sassuolo. Giacomo era quello che è adesso, cioè un grande professionista già da bambino, da ragazzo, perché si dedicava tantissimo al lavoro, era una persona sempre solare, sempre positiva, aveva la caratteristica di essere un grande trascinatore con i fatti ed essere una persona che aveva una parola, un giocatore, già allora era un giocatore, che aveva una parola per i propri compagni, sempre positiva, sempre di... per trascinare, non era mai negativo, non era mai una critica fine a se stessa, ma era sempre costruttiva, ma aveva sempre parole per qualcuno. E quindi i suoi compagni hanno goduto di questo suo modo di essere. Ecco, un trascinatore, questa è una costante, nelle varie interviste che abbiamo fatto, perché ci è stato detto anche nella scuola calcio, nella società Progresso, prima del salto ovviamente al sassuolo, che lui era un trascinatore, tra l'altro poi ci hanno detto che era, ovviamente era molto piccolo, ma era un leader dentro e fuori dal campo. Sì, assolutamente. Era un leader molto silenzioso, o meglio, non silenzioso, era un leader mite. Non era uno che urlava, non era uno che sbraitava. Aveva sempre, ripeto, dei toni non pacati, decisi, ma mai sopra le righe. E questo è sempre stato molto apprezzato. Poi ovviamente il suo vero essere leader era nella modalità di lavoro, che era una modalità di grande applicazione e di assoluto continuo cura del dettaglio. E quindi questo qui ha spostato gli equilibri. Nel tempo è stato per me, sinceramente, una grandissima sorpresa, la sua evoluzione, nel senso che sapevamo tutti nel settore giovanile di Sassuolo che Giacomo sarebbe diventato un giocatore. Ma quale poteva essere la sua curva di ascesa, non lo sapeva nessuno. E sono sempre state delle sorprese positive. Miss, era l'anno dell'Under-15. Era quindi un campionato nazionale, un campionato di un importante livello e il Sassuolo una grande società. Eppure Giacomo emerge sopra gli altri e trascina quella tua squadra fino alle fasi finali del campionato. Sì, siamo arrivati fino alle fasi finali, non siamo riusciti ad andare nel Final Eight perché abbiamo perso la partita precedente contro il Nomana nell'andata e ritorno dove, ahimè, Giacomo si fece male nella partita di andata, non era già al massimo della condizione, e quindi fece solo il primo tempo e poi lo riuscì a schierare giusto 20 minuti nel finale, nella partita di ritorno. E quindi siamo andati fuori con un gol di differenza. Purtroppo, sì, abbiamo un po' il ramarico di quella partita lì perché credo che Giacomo avrebbe potuto dare un grande contributo, l'ha sempre dato, quindi non vedo perché no. In quelle due partite. Mister, ma mi chiedo, hai avuto un momento nel quale, diciamo, ecco c'è stata la certezza, prima mi diceva, no ma sapevamo tutti che poi Giacomo potesse diventare calciatore, non avevamo la certezza, non sapevamo la parabola, però avevamo la certezza. Qual è il momento nel quale ha pensato, l'ha giocata, è il momento nel quale ha pensato, ok, questo arriva? Mi piacerebbe ci fosse un elemento da dire, ah, quel giorno che ha fatto questa cosa, ho capito che. E invece no, è quando lo si conosce Giacomo. Cioè io quando l'ho conosciuto, io l'avevo già visto giocare negli anni precedenti, a Sussuolo, perché avevamo un settore giovanile che era molto legato anche negli staff e tra gli allenatori, quindi conoscevamo anche le altre categorie, io lo conoscevo, e quando l'ho allenato l'evidenza era veramente palpabile. Ma ripeto, non c'era una cosa su cui eccelleva, eccelleva su tutte. Eccelleva su tutte, ma una qualità? Ma lui sicuramente l'ambidestrismo era uno degli elementi che balzava molto agli occhi, lui sulla base di come volevi una punizione, un calcio d'angolo, lui la buttava verso la porta o fuori, per lui è indifferente, cambiava solo la rincorsa. Questo sicuramente è un elemento. E poi la grande determinazione, la lucidità, perché manteneva sempre una grandissima lucidità, e come caratteristiche non riusciva a lasciare un pallone. Non era una cosa che era fuori assolutamente dai suoi principi morali, di quello di abbandonare l'attacco di una palla, o il tentativo di giocarla, o qualsiasi situazione di... Se lui percepiva la minima possibilità di andare a lottare una palla, lui ci andava, garantito. Forse anche quando nessun altro l'avrebbe creduto. Misse, se lo ricorda il gol più bello che ha fatto? Curca. Direi una sciocchezza, direi una sciocchezza perché me ne ricordo un paio che ho rivisto, sinceramente li ho rivisti, nel senso che li ho rivisti in Giacomo da grande con aggancio in area sterzata, stretta e calcio con l'altro piede e ne ha fatti diversi, così quella classica frenata che ha lui in un metro per cambiare piede e soprattutto sul primo controllo lui garantiva sempre una pericolosità. Garantisce ancora una grande pericolosità. Il Giacomo da Spadori di mister Cattani dove giocava? In che ruolo? Con me giocava a centravanti. Giocava a punta centrale, avevamo una squadra che lavorava sul 4-3-3 e avevamo due sterne che avevano delle caratteristiche adatte anche a lui e soprattutto al 4-3-3 e lui era la nostra vera unica prima punta. non avevo, se mi ricordo bene, non vorrei negare a nessuno un ricordo ma la prima punta la faceva sempre lui. Non ho mai modificato, forse è capitato qualche volta che giocasse sotto punta però tipo lavorando con un 4-2-3-1 e lui era quello che giocava sotto punta. Quindi mister Cattani vede Giacomo Raspadori centravanti prima punta oggi Spalletti lo fa giocare centravanti quando non c'è Osimen lo mette sotto punta l'hanno fatto qualche volta con il 4-2-3-1 ma soprattutto Giacomo nel Sassuolo cresce da esterno anche se però da quello che abbiamo capito nel settore giovanile del Sassuolo sostanzialmente ha sempre giocato centravanti tranne in primavera poi con Turini che fu spostato perché c'è la Scamacca e quindi fu spostato largo a sinistra dove poi con Iachini e De Zerbi ha giocato cioè nel salto in prima squadra è quello il ruolo di Giacomo Raspadori largo a sinistra? Sì beh lui credo che adesso io non ero nella testa e neanche nei rapporti diretti con gli allenatori del tempo che hai appena citato ma credo che il salto in Serie A potesse essere molto difficile come prima punta e potesse essere più semplice l'inserimento come punta esterna dove appunto il Sassuolo era comunque fornito di una punta centrale che quindi garantiva un gioco che nel 4-3-3 di De Zerbi era più funzionale dopo con De Zerbi comunque ha giocato anche prima punta perché ha giocato anche prima punta e poi è vero che il lavoro della squadra soprattutto di De Zerbi più che di Gliachini era di una squadra che si muoveva molto a parte un punto di riferimento che rimaneva abbastanza fisso di Berardi a sinistra a destra cioè però per il resto era abbastanza mobile come attacco insomma quando l'ha visto con la fascia da capitano del Sassuolo con De Zerbi allora io gli ho mandato io ho mandato a Giacomo diversi messaggi nella sua parabola di ascesa insomma in cui gli facevi complimenti per l'esordio per il primo gol per e a un certo punto gli ho detto non ci sono più parole per quanto tu riesci a sorprendere e per quanto la tua crescita sia esponenziale ovviamente parliamo lì per me è stata una grandissima emozione la fascia da capitano ma la grande emozione è stata la prima convocazione la convocazione degli europei la vittoria degli europei la scelta che ha fatto che ha fortemente voluto quest'anno di cambiare di cambiare maglia e di scegliere quella del Napoli cioè lui l'ha fortemente voluto cioè lui è un è un grande ambizioso e questo gli va dato atto perché lui ha scelto di andare a Napoli e lui le possibilità diverse possibilità le aveva ed eravamo tutti ancora a bocce ferme non avevamo il Napoli non ci è andato a dicembre con il Napoli prima in classifica quindi è investito fortemente anche sulla squadra partenopea quindi non si riescono non ci sono più riusciti a fargli dei complimenti che fossero al di fuori erano quasi scontati però necessari qualcuno anzi o meglio una costante del nostro racconto è che è venuta fuori appunto nelle tante interviste è che tutto quello che Giacomo ha toccato si è trasformato in oro un predestinato sì lui ha un temperamento così ha un temperamento così che non accetta per se stesso la sconfitta in termini sportivi ovviamente e non accetta che ci sia di lavorare in maniera mediocre lavora sempre per un'eccellenza e quindi tutto ciò che era intorno a lui cioè lui ha sempre preteso anche questo dai suoi compagni e quindi i suoi compagni sono cresciuti e probabilmente questo suo carisma per quanto molto giovane è arrivato in Serie A ha comunque se l'è portato dietro quindi se l'è portato dietro secondo me in nazionale tanto che è molto amato dal nostro CT se l'è portato sicuramente dietro a Napoli dove è fortemente so che è stato fortemente cercato da Spalletti pagato anche un bel po' pagato anche un bel po' perché Spalletti era credeva fortemente in Raspadori e ho capito che lo vede non solo come prima punta ma anche in altri possibili ruoli Giacomo credo che sia veramente molto duttile e quindi arriva il Napoli il Napoli lo paga 35 milioni di euro lo preleva dal Sassuolo Giacomo si mette subito a disposizione è un Napoli che comincia a lavorare tra l'altro piccola parentesi misse il suo figlio è tifoso del Napoli sì è un grande tifoso del Napoli grazie a uno a uno zio lo zio Doriano detto zio Dodo che è che è un lucano trasferito in campagna da giovane da piccolo e quindi sempre tifoso del Napoli e che quindi gli ha trasferito questa grande passione mio figlio Ettore ha cinque anni ed è cinque mesi che parla solo di calcio è vero che in casa si mastica abbastanza il calcio e il Napoli e la maglia di Giacomo Raspadori sono stati i primi regali del Natale e del suo compleanno mister la cosa che magari lei quando sente Giacomo gli dice o che Giacomo invece dice a lei qual è? Allora telefonicamente non ci siamo sentiti tanto cioè ci siamo visti l'ultima volta ci siamo visti l'anno scorso perché il suo fratello gioca nella categoria di eccellenza dove ci siamo incontrati e quindi è venuto a vedere il suo fratello e quindi lì abbiamo avuto occasione di fare due chiacchiere ma no tendenzialmente sono complimenti a fiume diciamo che riceve Giacomo ma io credo che Giacomo non abbia bisogno di complimenti per il suo percorso sportivo ma per quello che è e lui è un grande professionista è un grande calciatore ma soprattutto è un grande uomo però i complimenti arriveranno da qui a breve c'è da vincere uno scudetto c'è da portarlo a casa col Napoli certo io credo che me lo auguro ovviamente perché appunto i complimenti nel suo percorso sono stati continui per traguardi importanti raggiunti e credo che questo sia strameritato la possibilità diciamo che è vicinissima e quindi il traguardo è vicinissimo non tanto la possibilità quanto il traguardo è vicinissimo quindi a breve ovviamente il complimento sarà ancora una volta e fatto la scelta giusta è vicinissimo